Estate dura per i parcheggi nel quartiere pesarese di Villa San Martino. I lavori per realizzare la cittadella del basket portano infatti a sottrarre una cinquantina di posti auto nell'area sosta di via Togliatti che serve il locale campo da calcio, la piscina Facchini, una piadineria oltre alle attività di rimpettaie. Un divieto di sosta con tanto di area transennata che durerà fino al 17 agosto, determinato dall'imminente arrivo dei mezzi pesanti che serviranno a costruire la struttura sportiva polivalente dedicata alla pallacanestro con tanto di tribune, spogliatoi, uffici, locali di infermeria e riabilitazione eppure un museo del basket. L'operazione è messa a terra dalla ditta Pratelli di Urbino che ha terminato la fase di scavi e ora procederà a realizzare quello che sarà anche il centro federale del basket. La struttura dovrebbe vedere la luce nella prima metà del 2025 con un costo di 4 milioni e 400 mila euro coperti da risorse PNRR.